Io voglio a questo punto intervenire, soprattutto a seguito delle dichiarazioni rese dalla Commissione, perché in realtà in parte le condivido, con particolare riferimento, alla necessità di dover procedere a una design e a un riconoscimento della situazione contabile finanziaria in mente. E' chiaro che questa è la situazione che si potrà iniziare negli anni e che ha generato un frutto di debiti di problemi. Ritengo che questa maggioranza oggi, tuttamente non quanto già detto dal Consigliere di Milona, abbia fatto un atteggiamento di responsabilità, coraggio e domenica intellettuale. E' ovvio che non mi interesse di dovere accettare le responsabilità di quanti hanno contribuito a creare questa situazione. E mi sarebbe piaciuto poter dovere anche ai cento stelle, però non mi è venuto il futuro, è necessario abbandonare l'aula. D'altro canto, è una situazione che vi voglio arminare, perché noi siamo stati chiamati a coesare questa società e credo che proveremo scienza e coscienza. Grazie, signor Presidente Rassettino. Per breve l'epoca, non ti direi gusto, consiglio di parlare di... Grazie.